Per la prima volta in Veneto all'azienda ospedaliera di Padova è stata portata a termine una procedura di donazione di cuore fermo, organo quindi non trapiantabile, grazie alla quale sono stati resi disponibili polmoni, fegato e reni per pazienti che si trovavano in lista d'attesa. Si tratta di un importante risultato per la storia trapiantologica regionale, frutto della perfetta interazione di tutti i professionisti, medici e infermieri. Attualmente in Veneto sono più di 1200 i pazienti pensati in attesa di un organo per trapianto.